ciao a tutti io sono francesca e oggi nuova video recensione in questo caso o almeno in questo video faccio la recensione di greenland che in italiano vuol dire groenlandia e c'è un nesso ok quindi c'è un collegamento allora praticamente questo film parla di questa asteroide cometa perché lì lo chiamano sia asteroide che cometa che vuole attaccare la terra che vuole che attaccherà la terra e però all'inizio sembra che attaccherà lontano rispetto alla casa dei portano dei protagonisti che quindi loro si potrebbero salvare durante il film invece si scopre che questo asteroide che si chiama clark attaccherà tutta la terra quindi sarà quasi impossibile salvarsi e praticamente solo 200 famiglie persone non ho capito bene se sono persone o famiglie selezionate possono entrare in questo bunker e salvarsi la vita e raga succederà di tutto e di più io ve lo consiglio di vedere perché è un film che vi tiene attaccata alla televisione veramente non non è quasi impossibile deconcentrarsi dal film a me è piaciuto un sacco voto 10 e niente raga questa è la mia recensione su questo film e quindi noi ci vediamo alla prossima ciao ciao